Radio 00, Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami Nasce, nasce quando avevo appena sei anni ma se parliamo di cantautorato, cioè di canzoni scritte da me ho cominciato a scriverle più o meno all'età di 13-14 anni la prima canzone avevo scritta che avevo 14 anni quindi nasce in quel periodo e sono passati un bel po' di anni la sensazione che si prova cantando una canzone tua piuttosto che rispetto ad una cover ma anche per chi cura gli arrangiamenti in questo caso Josh Chiriatti che è il mio tastierista che questa sera per motivi professionali è fuori e i musicisti provano un piacere differente perché comunque ci metti del tuo e diventa una tua creatura e comunque non puoi fare il paragone perché se tu invece canti una cover hai già perso in partenza perché comunque il paragone non regge mai in genere è sempre migliore l'originale molto ben organizzata e peraltro in una location splendida devo dire che io sono qui grazie fra virgolette a Sergio Petio che è Music Empire e devo dire che da quello che ho visto e sentito ho fatto veramente un gran bel lavoro anche quest'angolo qui è una cosa molto simpatica molto carina saluto tutti i radioscoltatori di Radio Doppio Zero da parte di Max Vigneri Suoni e sapori del Salento di Puglia dal 1 al 4 giugno in diretta su Radio Doppio Zero